Pochi ne parlano, ma Bari è una città ancora con troppe disuguaglianze e poche opportunità. Noi lo sappiamo, ce ne rendiamo conto ogni giorno di più, è per questo che non vogliamo stare fermi. Quanti sono le assili nido a Bari? Quanti sono i bambini che sono rimasti appesi nelle graduatorie? Se due giovani decidono di avere un figlio e non possono permettersi delle strutture a pagamento, cosa fanno? Rinunciano al lavoro o rinunciano ad avere un figlio? Quali sono gli spazi pubblici e culturali di questa città? Dove si riuniscono, dove vanno, dove si incontrano i giovani di Bari per gli eventi culturali? Bari ha un'università e un politecnico che altre città ci invidiano, ma perché dopo la laurea i nostri giovani vanno via? E perché quelli che restano sono costretti a pagare affitti alti e a nero? Bari ha un tasso di disoccupazione giovanile altissima. La maggior parte dei giovani che decidono di non studiare sono costretti a demigrare per trovare un lavoro. Quelli che restano o sono a spasso o hanno un lavoro precario. Questa è la nostra denuncia rispetto al territorio dell'area metropolitana di Bari. Bari è dispari, ma in gioco ci sei tu. Costruiamo insieme il nostro laboratorio con i giovani e per il lavoro. Questa è la nostra denuncia rispetto al territorio dell'area metropolitana di Bari.